Musica Sul tagliamento oggi non ci sono cannoni Che arrivaranno di un po' al minaccio della conciliazione E' l'alba del 14 novembre 1917 Temperatura meno 10 Nell'oscurità i fucili sono inutili Baionette italiane contro pugnali bosniaci Critica, molto critica Se fa invece la situazione a destra Le mitralettrici italiane sparano, sparano e sparano ancora Musica 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 Grazie a tutti.